Quanto è ammazzato? 5.86 Maria Come fai a morire sull'87 d'agio? C'è in sessione però Ma per chi lo scopo? C'è un po' da nè C'è un po' da nè C'è un po' da nè Minchia l'ape Minchia l'ape Last one time Cosa fa con l'ape? Va bene Vabbè Mette l'acconto che dopo mi faccia ammazzare Che c'è un po' come la seconda Fida che fida Scusami Minchia l'apevole Si ammazzano a chi te ma ammazza Cosa? Ma come è fuori stata? Da nè Arroba molto fuori stata Da nè Non è capo Come la forte zancudon Mi ricerlo niente Perciò Minchia l'apevole 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 non mi sembrava, non mi sembrava Grazie a tutti.